Avvocato! Avvocato! Ma insomma, si rende conto che lei deve andare via con la signora Nardi? Ma, ma mi scusi avvocato, non so neanche cosa devo fare io. Guardi, quello che lei deve fare non lo so bene neanch'io. L'importante è che lei mi assecondi la signora Nardi in tutto e per tutto, chiaro? Che che chiaro? Le voglio offrire ancora una possibilità. L'orecchio, l'orecchio! Le affido la pratica Nardi, ma attenzione! La signora Nardi è cavaliere del lavoro, presidente dell'Ardie Consorti e soprattutto la nostra migliore cliente. E noi le dobbiamo il 75% dell'intero fatturato del nostro studio, va bene? Del suo studio. Ergo, mi assecondi la signora Nardi in tutto e per tutto e le obbedisca completamente, altrimenti io la caccio. E se io la caccio, lei non entrerà più in uno studio legale nemmeno come uscire, chiaro? È chiaro, vuole che me lo scrivi. A completa disposizione! Avvocato, si sbrighi! Alla prossima, signora... Ma che... no! Allora... Grazie a tutti. Grazie a tutti. È tutto a posto? Sì, signora. Ho fatto tutti i controlli. Può partire quando vuole. L'aereo? Bene. Ci vola? Avvocato, per favore. Vogliamo andare che è tutto pronto. Scenda da quella macchina.